Sono Simona Nava, sono un medico specialista in ginecologia ed ostetricia e mi occupo soprattutto di epigenetica, medicina sistemica e attraverso lo studio di queste due scienze sto aiutando tantissime coppie a coronare il loro più grande sogno che è quello di dare la vita. Infatti cerco di trattare con l'approfondimento epigenetico e con l'eliminazione dei danni epigenetici l'infertilità di coppia, perché moltissime coppie purtroppo non riescono ad avere un bambino in quanto sono intossicati o danneggiati dai molteplici danni epigenetici che purtroppo in questo mondo moderno alterano le nostre più basilari funzioni dell'organismo, quale la riproduzione. Ovviamente tutto questo poi è ancora più importante quando riusciamo a risolvere l'infertilità di coppia nella sviluppo embrio fetale durante la gravidanza e anche nei primi 2-3 anni di vita del neonato, quello che si confeziona un po' come i mille giorni più importanti per equilibrare il sistema nascente dei nostri bambini. Quindi tutto questo io l'ho appreso nella alta scuola di formazione in epigenetica che suggerisco, perché è fondamentale a prendere questa scienza e grazie all'utilizzo di questo tool che è la S-Drive, che effettivamente evidenzia attraverso un semplice studio del capello a che fattori epigenetici è esposto quell'organismo, quindi di quell'individuo di cui noi studiamo il capello e se noi scopriamo in un modo così poco invasivo i fattori che possono alterare epigeneticamente le cellule di quell'individuo, possiamo immaginare che anche l'ovocita in una donna o lo spermatozoo in un uomo siano danneggiati e così spesso io riesco a risolvere i problemi, ovviamente integrando questo tipo di test con le basi della medicina moderna, quindi non trascuriamo niente, ma non trascuriamo neanche le emozioni, lo stress, l'alimentazione, perché purtroppo spessissimo tendiamo a dare farmaci, ormoni, a trattare l'infertilietà di coppia con stimolazioni ormonali dell'ovulazione nella donna e veramente spessissimo poi non riusciamo a risolvere il progetto riproduttivo di queste coppie, ma non solo, abbiamo anche arrecato noi stesse dei danni epigenetici utilizzando moltissimi farmaci. Io devo assolutamente ringraziare l'incontro con la scuola di alta formazione in epigenetica e la capacità di utilizzare S-Drive, perché sto facendo una medicina molto più completa e molto più utile per risolvere i problemi delle mie pazienti e perché no, per dare l'origine a nascite felici, nascite serene. Da quando uso questo tipo di medicina sempre di più le coppie che sono riuscite a partorire e tornano a trovarmi con il loro bambino in braccio e mi dicono, ma dottoressa, ma il mio bambino sta bene, mangia, dorme, è sereno, questo noi vogliamo.